questo è il nostro ministro, sempre David, 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 it's a John of the 14th, 24th, 16th, and here in E-Bars, not totally cloudy, I'm here in the 13th, 16th, green, cloudy, tools, mark, and scandals in general Zhongli Al, do the same thing let's say something 15th to 14th, and can try to translate the process with which it pert 테 there are 5,16th, and, for a long time the open the person in the new formation is fireball behind the camera, I'm coming and security So our friend David, 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 David isl эта song with spirit byős, starring John Ph. It's truly happening e mi piace, sta soltando l'interno della sua, la nostra eredità e la nostra eredità Per me sono un po' risultato, perché non mi piace quando per me non mi piace. Bene, io è un po' risultato, è un po' il problema, non mi piace, per me non mi piace, ma ti sono ancora pieni. Allora, questa è stata io, nonostante, infatti, perché non mi piace, possiamo dire che che ci sia una diretta di un'altra guerra di perciò è un'altra guerra di un'altra guerra così si veda ora mi aspetta perciò una guerra di un'altra guerra e ci sono quasi 했던 corsa un'altra guerra in alto ... non vedete, noi sento il mio conto, è il nostro amore e il, dentro questo, il mio conto e per il mio conto la mia pelle. non si trova cosa ha fatto tutto si può fare per questo sei infezionale, il mio conto nella mia pelle. Non abbiamo capito il tuo conto, non abbiamo capito se qualcosa è difficile. Non abbiamo capito una volta, non abbiamo capito al conto di ciò, che ci sono così, è un conto di un'altra cosa, è un conto di un fatto di un conto. Non non è molto importante, è un conto di un conto, è un conto di un conto di un conto, Fai una lì, fai una media colchino, GX614, EJ625 E vanno, questi è molto bimbo, per me c'è un'altra ricorsa, questa è l'epoca di ammitora Non sono pronti, non si sta, però adesso non si sa E fai una lì, un'opio, una lì, un'altra, 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 un'altra Che si sa inizialmente, un'altra, 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 un'altra Un'altra, 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 un'altra L'importante cosa, l'importante di questa Asou, let's see Breakfast, non mi vuole solo, no, sssssss Viola, l'attenga da me fanno, guarda Sì, ono Asi